Questo è un anello della mia famiglia e rappresenta un leone di cognome che prende una stella. Come vedete c'è un piccolo puntino nero che non è un diamante, come chiedevo sempre a mio padre, perché magari un giorno uno può avere bisogno di soldi se avessi un anello con un diamante poterà sempre andare al monte e impegnarlo. La prima volta che mi diede questo anello, che è un anello di famiglia, mi disse che c'era qualcosa di molto più prezioso. Quella piccola pietra nera è un meteorite, cioè una scintilla, un frammento di stella. Praticamente, mi disse mio padre, porti una stella al dito. Ecco, forse da questo nasce la mia passione per la fantascienza, questo desiderio di cielo che mi è rimasto nel cuore. Ora devo fare anche una piccola premessa perché nell'elenco che ho fatto dei film di fantascienza che ritengo da cult, ho fatto alcune non dimenticanze, ho pensato che non fosse necessario sottolinearli, ma invece ho capito che è bene che vi sottolinei altri titoli che sono molto importanti. Questi titoli sono sicuramente un film del 1931 che si chiama Frankenstein e uno del tetratè che si chiama L'uomo invisibile. Sono ambedue opera di James Vell, un grandissimo, straordinario regista, dimenticato da tutti, ma che in realtà è colui che ha portato il film espressionista a livello popolare. Quindi sono due film fondamentali e sono alla base di tutti i film dell'orrore che abbiamo potuto vedere. Quindi è molto importante. Un altro film, anzi due film di Robert Weiss, Ultimatum alla Terra e Andromeda, sono due declinazioni della fantascienza in maniera completamente diversa e piena di suggestioni, uno con un messaggio pacifista e l'altro invece con un messaggio quasi minaccioso, cioè un messaggio che ci dice di stare attenti a quello che potremmo fare e che potremmo combinare. Ah, un avviso importante. Il produttore di queste video recensioni, Mario D'Andrea, vorrebbe inserire queste video recensioni in Rotten Tomatoes, ma per farlo ha bisogno di aumentare il numero degli iscritti. Quindi se vi interessa quello che dico, vi prego per favore di iscrivermi al canale e di cliccare sulla campanella. Grazie. Il futuro è qui. L'uomo che fuci dal futuro è importante perché è il film di esordio di George Lucas. Ed è un film che, al di là di Guerre Stellari, che verrà più tardi, questo è un film importante in cui fa già vedere come Lucas era interessato alla fantascienza e come questo gioco del tempo inventato da H. G. Wells ritorni in maniera costante sempre e continuamente in tutti i film. Quindi dobbiamo vedere i classici di questo genere proprio per capire come si sono svolti e per non stupirci di fronte a tanti prodotti moderni che in realtà non fanno altro che riproporre vecchie idee. Questo è molto importante e serve soltanto sulla strada della conoscenza, per capire, per sapere che prima di noi c'è stato qualcun altro che ha pensato le stesse cose e quindi invece noi di scoprirle possiamo migliorarle. Scusate questo pistolotto e andiamo avanti sulla fantascienza. Un altro film importante nel 1975 è Anche i bianchi sul piano della terra. Anche questo è tratto da un racconto di Matheson cioè Io sono leggenda ed è il primo di una serie che verranno poi ripresi. Qui ha di nuovo uno straordinario Charlton Heston ed è la storia dell'ultimo uomo sulla terra, l'ultimo uomo vero perché gli altri sono dei mutanti. Non dico di più, dovete vederlo perché è un film molto importante. Di nuovo, un altro film sempre nello stesso anno è Il mondo dei robot dello straordinario Crichton. Crichton è l'autore di alcuni film straordinari di Jurassic Park e di Coma Profondo, quindi è un autore da seguire con estrema attenzione. Questo mondo dei robot è molto importante, molto successivo e ha una bellissima interpretazione di Yul Brynner. Un altro film importante è anche La fuga di Loga. Questo film del 1976 è molto interessante perché è uno che declina la fantascienza quasi nell'horror, ma in un horror psicologico più che un horror visivo. È molto importante perché può far capire la deriva della tecnologia della scienza e quanto possono essere falsi i cosiddetti paradisi sociali. Di tutto altro genere invece è Rollerball, un film praticamente come se fosse una nuova forma di colosseo, un colosseo tecnologico in cui si sfidano degli atleti che corrono su degli strani avveniristici pattini a rotelle. È un misto tra i pattini a rotelle e i lokei, però è un gioco sanguinario e ferocissimo ed è un film di grande suggestione e di grande originalità. L'uomo che cadde sulla terra è un film particolarmente originale che può vantare anche l'interpretazione di David Bowie, il famoso cantante, e che quindi conferisce con David Bowie, con il suo aspetto lunare, una caratteristica assolutamente particolare al protagonista del film. Nel 1977 c'è un film epocale, Incontri rabbiciati del terzo tipo di Spielberg, capolavoro assoluto insieme allo straordinario e famosissimo E.T. Su questi due film non mi soffermerò perché sono gli albori di una nuova fantascienza che viene declinata in maniera più suggestiva e diversa e sono veramente, al di là degli effetti speciali, delle fantascienze dell'anima. Sempre di H. G. Wells c'è anche L'uomo venuto nell'impossibile, un gioco con la macchina del tempo appunto dove un detective della Londra del 1800 viene oggi nel futuro, oggi che è il futuro per allora, per cercare di catturare Jack lo squartatore che proprio con la macchina del tempo è fuggito dalla polizia di Londra del 1800. E poi c'è un film molto importante, importante come 2001 di Stano allo spazio e forse ancora di più. Si intitola Stalker ed è del grande regista russo Tarkovsky. È un film molto particolare, fatto con dei tempi dilatati, con un tempo sospeso, quindi forse per molti spettatori è difficile da seguire, ma di grandissima intensità, di grandissima suspense, di grandissimo mistero. Un film assolutamente notevole e un film che non si può perdere. Vi prego di vederlo perché è di nuovo uno di quei film che vanno oltre la fantascienza, raggiunge sicuramente la metafisica e nelle mie parole non sono esagerate, vi prego di crederli. Come per rilassarsi dopo Stalker, non dobbiamo dimenticare di vedere Interceptor 1 e 2 e sarebbe la saga di Mad Max, il film che rivelò Mel Gibson e che era diretto da George Miller. Questo straordinario personaggio, un regista pazzo, incredibilmente originale e particolare. Pensate che era un medico del pronto soccorso e per poter fare questo primo film, questo primo Interceptor, su un'epoca post-nucleare, post-atomica, un film feroce, giocato come i gladiatori nell'arena, originalissimo e particolare, con delle macchine di una particolarità assoluta. Un film feroce, però nello stesso tempo allegro, bestiale. Un film interessantissimo. Per poter fare questo film, addirittura insieme a un suo socio, non hanno fatto altro che fare per tutta un'estate i pronti interventi con l'ambulanza, notte e giorno per mettere da parte i soldi e gli straordinari per potersi finanziare in parte questo film. Tra l'altro, George Miller è uno che poi ha rifatto l'ultimo Mad Max ed è di nuovo un film caotico e straordinario di un ritmo folle a un uomo che ha 79 anni ma sembra girato da un giovanissimo per quanto è suggestivo e pazzesco. Nel 1981 appare un altro film capitale, che è Fuga da New York, perché chiaramente c'è un innesto sociologico particolarmente interessante e di grande suggestione, pur rimanendo invece un film originale e feroce sotto certi aspetti. Un altro film importantissimo che vi prego di vedere, e avete visto sicuramente, ma da non dimenticare e da rivedere, nel 1982 è Blade Runner, caposaldo di tutta una serie di film che sono oramai nel nostro immaginario collettivo e che sono fondamentali. Blade Runner tra l'altro è molto importante perché per la prima volta parla dei cyborg, parla dei cyborg in maniera umanizzandoli, facendone qualcosa che era già un discorso fatto in cibernetica, cioè la macchina potrà pensare, e quindi per la prima volta queste macchine sono macchine pensanti, ma non solo, sono macchine con i sentimenti e questo lancia una forma di inquietudine tipica della migliore fantascienza. Di nuovo un grande film di fantascienza del cuore. Come un altro grande film, anche se non solo del cuore, ma anche degli occhi, è Tron, il primo film che usa la computer grafica ed è il primo film che parla dei videogiochi, nei videogiochi come se fossero una specie di parallelo della vita. Quindi è un film da non sottovalutare e da tenere presente. C'è poi La Cosa, film di grande impatto, di suspense e di emozione dovuto di nuovo a questa forma di fantascienza dell'ignoto che tanto è suggestiva come in Stalker e come in altri di Roger Corman che è un film in cui c'è veramente qualcosa di spasmodico che ritroveremo anche in Alien, cioè questa possibilità di stare di fronte a un mistero, di essere sulla soglia del mistero e di esserne schiacciati come se questo mistero avanzasse e ci invadesse costantemente. Nel 1987 è l'anno di Rob Coop. Rob Coop è questo super poliziotto come se di fronte a quello che era la delinquenza che oramai aveva raggiunto delle punte massime, cioè come se tutti i movimenti del 68 diventati poi terrorismo, diventati poi di una nuova paura sociale che erano sotto certi aspetti sfogati nella fuga da New York nel 1881 e nel 1887 è come se Rob Coop avessi avuto questa scoperta di fare un super poliziotto, una specie di pre-trasformer, il quale era capace di diventare questo super tutore della legge per difenderci da questi super delinquenti. Quindi come vedete la fantascienza si veste di tentativi di sociologia, sogna delle impossibili e suggestive rivendicazioni ed è la stessa cosa che troviamo con l'inizio degli anni 90 con Atto di forza, questo gioco del tornare avanti e indietro nel tempo, questo gioco della multilocazione dei personaggi, questo infinito labirinto che è il tempo e le possibilità, scusate il gioco di parole, del possibile diventa molto suggestivo e molto importante in Atto di forza. Questo viaggio nel tempo culmina con Jurassic Park. Jurassic Park, sempre dovuto al genio di Crichton, come idea, come un romanzo, è di nuovo addirittura la pre-storia portata ai nostri tempi e quindi c'è questo scontro, questa possibilità molto suggestiva. Nel 1987 un altro film interessante è Predator. Predator è di nuovo un incontro con l'elieno, ma in questo caso è lo scontro, è la lotta ferocia fra una specie di samurai spaziale assoluto, deciso, determinato, ferocissimo, invisibile addirittura contro questa sporca dozzina, chiamiamola così, non solo una dozzina, ma molto di meno, sperduta nella giungla. Quindi è un incontro epico e di grande suggestione. Al di là del gioco violento e del duello spietato che c'è tra personaggi, è anche questa una delle storie di fantascienza del cuore, perché l'angoscia, l'alienazione, la disperazione e la rabbia dell'uomo solo contro un nemico invisibile è quella di Ulisse contro Polifemo, è quella eterna, è quella di Davide contro Colia, è quella che ogni volta ci troviamo a dover tenere il nostro coraggio e il nostro cuore tra i denti e combattere. Nel 1995 appare L'esercito dodici scimmie, anche questo è un film epocale, anche questo è un film che oggi sembra di avere delle suggestioni modernissime perché di nuovo è un'epidemia drammatica che distrugge il mondo e che fa parte di un'immensa e curiosa congiura contro la quale un uomo solo deve lottare anche a costo di passare per pazzo, anche a costo di sacrificare la sua psica, la sua anima pur di combattere e di riuscire a risolvere questa immensa e terribile cappa di male che scende sulla terra. Un film particolarmente interessante e da notare e da segnare e da rivedere proprio per saperlo. Poi c'è un film molto particolare e interessante e irridente, un film quasi cialtronesco e ribelle che si chiama Mars Attack di Tim Burton. È un film veramente incredibile, è un film in maniera scherzosa teppistico, sembra fatto da una specie di pievino della fantascienza, però vi prego di vederlo perché è veramente un film notevole e prende in giro tutti gli stereotipi e tutte le situazioni ma prende anche in giro il conformismo degli esseri umani che è veramente quello da distruggere e da eliminare. Nel 1998 c'è Truman Show, un film di Peter Weir, uno straordinario film importantissimo perché rende l'ultima possibilità in cui può arrivare la televisione, cioè il mondo immaginario che diventa reale. È un film che è una parabola del mondo contemporaneo e quindi dobbiamo vederlo perché la realtà virtuale è come se si facesse realtà quotidiana e c'è questo gioco di specchi che richiama il grande e straordinario teorico della televisione che era in The Mass Media che era McLuhan. Cioè lui diceva che è il mezzo che creava il personaggio e in questo caso addirittura il personaggio che crea il mezzo che a sua volta ricrea il personaggio facendolo diventare come se fosse reale, anzi è reale e non sappiamo più qual è la verità e qual è la finzione. La conclusione degli anni 90, a mio giudizio, però è un film che raccoglie tutto questo, tutto quello che ho detto finora, lo miscela in una grande e importante originalità sia visiva perché è fantascienza degli occhi, ma è anche fantascienza del cuore e del cervello, perché il film di cui sto parlando è Matrix, cioè veramente punto epocale in cui tutto quello che è la realtà virtuale, tutto quello che è la nostra disperazione nel mondo contemporaneo, tutto quello che è la solitudine, tutto quello che è il nostro distrito di riscossa, tutto quello che è la nostra disperazione, ma tutto quello che può essere anche il nostro coraggio e la forza del nostro animo. I fratelli o le sorelle Paciosche, adesso non so più perché magari hanno cambiato sesso un'altra volta, non si può sapere, loro in ogni modo, intelligentemente, disperatamente, coraggiosamente e originalmente hanno detto. Abbiamo parlato nella fantascienza di incontri ravvicinati. Ebbene, vi sembrerà strano, ma anch'io ho avuto un incontro ravvicinato, un incontro ravvicinato che si è concluso in una maniera particolare. Vi racconto la storia e il solito aneddoto che racconto alla fine di ognuna di queste video recensioni. Avrò avuto 25 anni, avevo venduto una delle prime cose in cinema e mi hanno comprato una Spagna da Motocicletta e con questa motocicletta, con un mio carissimo amico, siamo andati in una sua casa di campagna abbandonata perché avevamo organizzato quello che doveva essere un weekend di sesso e rock and roll, cioè praticamente il padrone di questa casa avevamo portato dietro il giradischi, avevamo invitato delle ragazze e pensavamo di fare una cena, di ballare tutti i dischi lentissimi, sempre più lenti, eravamo tutti pronti, ma poi le ragazze non sono venute. Quindi, come si dice Roma, siamo andati completamente in bianco e ci siamo ritrovati in questa specie di fattoria una casa di campagna isolata con un inutile giradischi, un sacco di provviste che avevamo comprato per fare una luculliana cena e quindi ci siamo fatti una buffata tremenda, abbiamo cucinato tutto, abbiamo mangiato tutto, abbiamo bevuto quasi un fiasco di vino e poi siamo messi in quest'aia di fronte a questa splendida notte estiva, soli, desolati, ma a pancia piena, diciamo così, a guardare le stelle, non potevamo fare nient'altro, tutti i nostri sogni erotici erano infatti. Mentre guardavamo le stelle, a un certo momento ci siamo resi conto che c'era una strana luce insieme alla collina che pulsava, si accendeva e si spengeva, si accendeva e si spengeva. Ora, non era proprio in cima della collina, era a metà costa come se fosse stata un aereo che si avvicinava, in realtà era sempre ferma, ma si accendeva e si spengeva. Io ho detto al mio amico sembra quasi che voglia segnalare qualcosa. Il mio amico, che appena ha fatto il militare, aveva fatto come un paragatturista, aveva fatto anche un corso da radiotelegrafista, ha detto che mi sembra un alfabeto Morse, e abbiamo continuato a seguire questa luce e a cercare di decifrarla. Il mio amico, sapete, l'alfabeto Morse con le luci è un punto, una linea, un punto, una linea, ha fatto di punti e linea. Le linee sono la luce più lunga e i punti sono la luce breve. Quindi abbiamo cominciato a vedere questa cosa e il mio amico ha cominciato a decifrare. Io ho detto che cosa potrebbe essere. Io ho detto scherzosamente anche un'astronave. A questo punto, mentre decifravo, la mia amica ha detto S, poi T, I, A, M, O, stiamo. Oddio, stiamo, ma allora è una cosa intelligibile. A, R, R, I, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Oddio, ma allora è davvero un'astronave? È davvero qualcosa che sono gli alieni? Oddio, forse abbiamo bevuto un po' troppo, forse siamo troppo giovani per farsi un fiasco di vino in due in questa cena che siamo andati in bianco. Forse, ma io ho paura. No, guarda, cerchiamo di capire. Forse si è atterrato in cima alla collina, così ci siamo armati di una spranga e di due coltelli da cucina e abbiamo cercato di risalire questa collina. Siamo arrivati in un grande campo di cocomeri e a questo punto abbiamo visto una saga omoscura che viene verso di noi e che si muoveva. Noi terrorizzati con i coltelli in mano, la sbarra pronta, invece è arrivata una voce mentre questa luce continuava a puzzare. Ma che è stato a fare? È stato a rubare i cocomeri. Una lampada tascabile ci ha illuminato e ci siamo trovati di fronte a un massiccio contadino armato di una specie di roncola e di schioppo che ci ha detto basta di fregare i cocomeri. No, ma guardi, veramente, noi stavamo cercando, siamo sentiti un po' ridicoli, un'astronava aliena. Ma che scusa è questa? Adesso mi vado a fregare i cocomeri che la scusa di cercare i marziani. No, veramente, guardi, c'è quella luce che pulsa, ma qua lì è la soffitta di casa mia, c'è una finestra che sbatteva. Era la finestra che sbatteva, aveva lasciato la luce accesa nella soffitta e la finestra l'imposta si apriva e si chiudeva per il vento e sembrava un segnale. La salata è finita con la grande mangiata di cocomeri e io non ho fatto più questo incontro ravvicinato. Grazie.